Musica Buonasera a tutti voi ben trovati dalla nostra redazione apriamo oggi ancora parlando dei continui disagi legati al caldo ma anche a tutta una serie di guasti dell'energia elettrica disagi nel comprensorio infatti dell'Etna a causa di un incendio il comune di Belpasso si è ritrovato senza acqua mentre un altro guasto ha determinato la mancanza di energia elettrica a Ragalna in entrambi i comuni si sta lavorando per ridare i servizi primari ai cittadini sentiamo nel servizio di Orazio Caruso quanto sta accadendo A Belpasso e a Ragalna nelle ultime ore si sono registrati una serie di servizi idrici nel territorio belpassese ed elettrici in quello ragalnese in particolare a Belpasso in alcuni quartieri da diverse ore i rubinetti delle case dei residenti sono asciutti a causa di un incendio che ha distrutto una condotta idrica nel pomeriggio di ieri infatti un vasto incendio ha di fatto reso inutilizzabile la condotta che da Pozzo Difesa giunge al serbatoio Sant'Anna quest'ultimo serve i quartieri San Rocco, Cristo Re, Matrice e Sant'Antonio Acoset ha incaricato un'azienda per effettuare i lavori di ripristino la quale ha lavorato per l'intera giornata di oggi presunibimente a meno di imprevisti dell'ultima ora entro la tardissima serata di oggi l'intervento dovrebbe essere ultimato la sostituzione interessa circa 150 metri di condotta a lavori conclusi bisognerà riattivare il Pozzo e quindi attendere i tempi tecnici per il riempimento di serbatoi e condotte si ipotizza l'erogazione possa ritornare a pieno regime nelle 12 ore successive dalla conclusione dell'intervento di ripristino per venire in conto alle esigenze cittadine ha detto il sindaco Carlo Caputo abbiamo deciso per 24 ore di emergenza lo stanziamento presso la piazzola del centro come di via Magri di una nostra autobotta comunale dalla quale sarà possibile riempire di acqua, taniche e bidoni qualora non si riuscisse a trovare fontane pubbliche disponibili nell'immediato apertura anche del nostro palazzetto dello spot di contrada Timba Magna con la possibilità di usare i servizi igienici per docce e altre necessità tra le 8 e le 23 di servizi anche a Ragan la quale dal Lab di oggi è senza energia elettrica come da comunicazione ricevuta da Enel Distribuzione si informa che sul territorio di Ragan si è verificato un importante guasto si legge sulla pagina social del comune di Ragan che interessa diverse cabine di distribuzione i tecnici Enel sono al lavoro sin da stamattina per riparare il guasto e installare gruppi elettrogeni dove è necessario per ripristinare il non male servizio da primo pomeriggio di oggi in alcune zone della cittadina ragannese la corrente elettrica è tornata grazie come si diceva all'installazione dei primi gruppi elettrogeni i tecnici Enel hanno lavorato celermente per evitare grossi disagi ai residenti ha detto l'assessore comunale alla protezione civile Andrea Corsaro ci si augura che entro la tarda serata di oggi la corrente elettrica possa essere ripristinata su tutto il territorio cittadino sono stati collocati 7 gruppi elettrogeni ha concluso Corsaro che hanno interessato altre tante cabine elettriche e nel contempo sono iniziati i lavori per sistemare il guasto alla rete elettrica vasto incendio ieri sera paternò in fiamme un terreno incolto ridosso del viale dei platani le forti folate di vendo hanno alimentato il rogo che ha minacciato auto in sosta e anche abitazioni ad intervenire sono stati poi i vigili del fuoco e del distaccamento di Adrano poiché i colleghi del distaccamento di Paterno erano impegnati altrove i pompieri sono addentrati all'interno del terreno con gli idrandi spegnendo il fuoco in pochi minuti riportando così le condizioni di sicurezza per i residenti della zona c'è da dire che il terreno in questione non è stato interessato dagli incendi neanche negli escorsi anni ed in merito proprio agli incendi il Codacons ha proposto una taglia di 50.000 euro per scovare i piromani che appiccano in maniera criminale gli incendi senza pensare minimamente al danno creato alla natura ma anche alla vita altrui il segretario nazionale dell'associazione dei consumatori ritiene necessaria una collaborazione tra cittadini e istituzioni affinché i colpevoli possano interrompere queste azioni di disastro ambientale una taglia da 50.000 euro per ogni piromani si tratta della proposta avanzata dal segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi ai comuni siciliani e al governo regionale con l'obiettivo di fermare l'azione devastatrice dei piromani Tanasi ha specificato che ci sono troppi ettari di bosco andati in fumo a causa di incendi dolorosi che ogni anno con straordinaria puntualità distruggono un patrimonio boschivo che si assottiglia sempre di più Tanasi ha evidenziato che è necessaria la collaborazione tra cittadini e istituzioni affinché i colpevoli possano interrompere queste azioni di disastro ambientale e rendere più facile il lavoro degli uomini della forestale impegnate come sempre in prima linea rischiando la propria vita sembra superfluo ricordare ha sostenuto Tanasi che i responsabili devono essere puniti con severità e bisogna fare di tutto per porre un argine a fenomeno per questo propongo che comuni e regioni siciliani ammettono una taglia di 50.000 euro a piromani offrendo i soldi a chi riesce a permettere l'identificazione con successiva pena Tanasi ha concluso annunciando che i Codacons si costituirà a parte civile nei processi che si celebreranno contro i piromani volendo in tal modo sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni affinché ognuno faccia la propria parte nella lotta a questa subdola e pericolosa forma di criminalità intanto sui blackout elettrici che si sono registrati in questi giorni nella provincia di Catania torna a parlare il ministro per la protezione civile Nello Musumeci dopo il vettice in prefettura tenutosi all'inizio di questa settimana per le criticità relative alla disalimentazione elettrica attualmente la situazione risulta essere in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi ha detto Musumeci risultano oggi disalimentate meno di 15.000 utenze concentrate prevalentemente in provincia di Catania soprattutto nell'area Pedemontani e Tennea ha concluso Musumeci una pattuglia della guardia di finanza della compagnia di Paternò questo pomeriggio ha sottoposto a controllo una persona dopo essere stata fermata a bordo di un'auto in via Vittorio Emanuele a Biancavilla l'uomo che sarebbe stato trovato in possesso di droga è stato poi condotto in caserma per ulteriori accertamenti al via questa mattina a Biancavilla i lavori per il rifacimento del mando stradale che interesserà la parte alta degli Vittorio Emanuele cioè il tratto che da Piazza San Dorsola giunge sino al Piazza Sgriccio in città sono diversi lavori in corso che riguardano la mitigazione dell'accumulo di acqua piovana e il rifacimento di strade ammalorate al nostro microfono il sindaco Antonio Bonanno fa proprio il punto sui lavori sentiamo in questo periodo in questi primi mesi di questa amministrazione abbiamo lavorato per rilanciare tutti quelli che erano gli investimenti programmati oggi c'è un intervento di pavimentazione atteso su un tratto ammalorato della via Vittorio Emanuele si continuerà nei prossimi giorni su via Cristoforo Colombo riprenderanno una serie di lavori che avevamo avviato ma nel frattempo le belle notizie non mancano perché abbiamo in questi giorni aggiudicato le gare sulla rigenerazione urbana oltre 5 milioni di euro di interventi per rifare il paese più bello come abbiamo sempre detto riguardano la zona di Spartiviale riguardano il Largo dei Vespri via Taranto sono interventi assolutamente importanti ma quello che è importante veramente importante soprattutto con i cambiamenti climatici in corso sono interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e quindi immagino le vasche di laminazione che stiamo mettendo e stiamo installando e stiamo mettendo in campo da Cartalemme dai Viale dei Fiori da Scirfi con un intervento importante che servirà ad alleggerire il peso idrogeologico su tutta la città come anche su diversi punti critici almeno 15 punti critici che sono stati individuati nel centro abitato in questi giorni stiamo anche intervenendo portando a gara altri interventi come il secondo straccio di illuminazione da Badalato come anche la sistemazione di una piazzetta Piazza Marte di Ungheria quindi abbiamo tanto tanto da lavoro che avevamo programmato e di cui ne stiamo raccogliendo i frutti ma abbiamo anche in corso d'opera una programmazione su nuovi investimenti tutti questi investimenti sono stati oggetto di finanziamenti europei di finanziamenti regionali tra l'altro abbiamo anche consegnato in questi giorni la realizzazione di un nuovo teatro all'aperto presso Villa Lefavare e quindi siamo veramente al lavoro abbiamo lavorato in questi mesi con l'emergenza genere con l'emergenza energia ma nel frattempo l'attenzione resta alta per poter migliorare i servizi di questa comunità Si svolgerà domani alle 11 nei locali della biblioteca comunale di Paternò la conferenza di presentazione del progetto Aiutami a fare da me finanziato dall'Agenzia Coesione Territoriale sulla povertà educativa con fonti del PNRR l'iniziativa progettuale si realizzerà nel territorio dei comuni di Paternò Ragalne e Belpasso sulla base delle esperienze di prevenzione della povertà educativa realizzate negli ultimi anni presso la direzione didattica del terzo circolo di Paternò per bambini da 0 a 3 anni il focus di questo progetto è l'apertura di centri di incontro per l'inserimento ma anche l'integrazione sociale dei bambini oltre al terzo circolo didattico sono coinvolte la direzione didattica del primo circolo l'istituto comprensivo Marconi con il plesso di Ragalna l'istituto comprensivo Giovanni Paolo II di Piano Tavola a Belpasso con il coordinamento della società cooperativa sociale Onlus Coinei che si avvarrà della collaborazione di un variegato partenariato del terzo settore dal 31 luglio al 5 agosto a Biella si terrà il 39esimo congresso mondiale dei Sarti a partecipare con una sua creazione ci sarà pure il maestro sarto biancavillese Salvatore Papotto vediamo ci sarà anche il maestro biancavillese Salvatore Papotto al 39esimo congresso della federazione mondiale dei Sarti che si terrà a Biella in Piemonte dal 31 luglio al 5 agosto i Sarti di tutto il mondo si ritroveranno tutti insieme per quella che è la più importante manifestazione nell'ambito dell'artigianato tessile il sarto Papotto che si è avvicinato nel mondo della sartoria quando ancora aveva solo 6 anni oggi con un'esperienza lunga quasi 70 anni in queste settimane è stato impegnato a lavorare nella sua sartoria presente in via Preside Caruso da quasi 53 anni a realizzare l'abito che metterà in mostra al congresso supportato magistralmente dalla sua collaboratrice storica Giuseppina Dell'Erba si tratta di uno spezzato da uomo completo di camice e cravatta con pantalone a vano perla realizzato esclusivamente a mano come il buon artigiano riesce a fare per il maestro Papotto anche se veterano in questo settore è sempre un'emozione particolare poter rappresentare il made in Italy confrontandosi come detto con i sarti di tutto il globo cercare di onorare la sartoria italiana e la sua tradizione e il buon gusto e l'eleganza italiana si è fatto sempre onore nel mondo mi aspetto dei importanti risultati perché c'è un impegno da parte di tutto dell'Accademia Nazionale dei Sartori in prima persona del Presidente Gatanoia Loisi che si sta prestando ad una maratona di preparazione immensa pensiamo che l'Asia si sta preparando alla grande e che noi dobbiamo tenere forte sempre per prepararci sempre di più essere degli apprendisti del sarto la mia intenzione è di presentare un ambito particolare tradizione e creatività qual è? la tradizione è nel tutto al mano nei particolari nel buon gusto nello stesso tempo di mettere un pizzico di civetteria come questo doppio petto classico davanti e più lungo di dietro dei movimenti diversi dal classico doppio petto con un vettecollo importante con dei bottoni in oro e argento abbinato a un bandalone di colore grigio ci sono delle cinghette laterali che il bandalone è senza cintura e abbiamo creato queste cinghette e in più davanti due passanti con tessuto da cravate con una linguetta più lunga e il bottone come nella giacca il sarto papotto forte della sua fede cattolica è solito inserire all'interno delle sue creazioni un'immagine sacra come quella della Madonna dell'Elemosina o di San Placido che sono i santi patroni di Biancavilla ma anche di altri santi e anche nell'abito realizzato in occasione del 39esimo congresso mondiale ha voluto inserire un messaggio particolare dedicato a San Francesco patrono d'Italia Ogni anno metto un'immaginetta nella tasca interna che non si vede o un anno ho messo la Madonna Santissima dell'Elemosina un anno San Placido San Zenone San Maria scriva il fondatore dell'Opus Today quest'anno ho pensato a San Francesco ho pensato a San Francesco e così ho scritto in braille nella manica Francesco patrono d'Italia per i non vedenti così chi è meno fortunato si sente anche pensato così mi ha insegnato mia madre Insomma siamo sicuri che anche in questa occasione il maestro Papotto saprà onorare al meglio l'Italia e il buon nome soprattutto di Biancavilla Domani a Paternò alle 18.30 in piazza Umberto si svolgerà la prima assemblea pubblica dedicata al processo di democrazia partecipata 2023 per una proposta condivisa da poter far poi finanziare con le risorse previste dalla legge nell'ambito del bilancio partecipato per un budget complessivo di circa 20.000 euro l'incontro di domani è promosso da Spendiamoli Insieme dal presidio partecipativo del patto di Fiume Simeto e dal comune di Paternò sarà l'occasione per informare ma anche sensibilizzare la cittadinanza sulle modalità di partecipazione e per rispondere alle domande proprio in vista della scadenza della presentazione dei progetti fissata per il 30 settembre prossimo Adrano celebra l'ottantesimo anniversario dello sbarco in Sicilia delle truppe anglo-americane con nome in codice operazione ASCII domani mattina l'amministrazione comunale e una delegazione di canadesi commemoreranno l'evento nella villa comunale e poi davanti al monumento dei caduti in piazza Armando Diaz saranno ricordati anche i civili deceduti durante i bombardamenti avvenuti dal 10 luglio all'8 agosto 1943 fatti dolorosissimi per la comunità raccontati nel suo diario con scrupolo e dodizie di particolari da Don Antonino Lamela durante la cerimonia alcune pagine verranno lette dall'attuale rettore della chiesa del Rosario Don Antonino Portale alcune installazioni poste all'interno della villa comunale riporteranno nomi e cognome delle numerose vittime civili dei bombardamenti che distrussero 80 anni fa per l'appunto Adrano questa è la nostra ultima notizia grazie come sempre per la vostra attenzione a tutti voi e l'augurio di una buona e serena serata grazie a tutti